In Chiemonti appunto mi stanno chiedendo se ho un progetto di fare qualche video musicale Al momento no, non farò parte di nessun video musicale Sicuramente ci saranno delle collaborazioni come sempre su Youtube con altri personaggi e tutto Però la risposta è no Oggi è il Waffan Next Day e ci manda un Waffan Next Roberic, sentiamolo Ciao sono Roberic in carri d'osso, bene si sono proprio io la vostra amichetta E oggi ho scoperto che c'è il Waffan qualcosa day e non potevo che non mandare un audio Ci tenevo col cuore a mandare innanzitutto a fanculo a chi non ha mai creduto in me E soprattutto ci tengo anche a mandare a fanculo tutte quelle persone che nella mia vita hanno fatto buon viso e cattivo gioco Sperando che non me ne sarei mai accorta Siete delle meravigliose persone Vabbè, mettete il beep magari, ok? Ciao ragazzi, voglio bene Ciao Ciao